Che domandeva dov'è? Il... La combo! Il superfaccio di... Ma se io faccio così... Comunque no, aspetta Norman! Cioè gli altri stanno dicendo che... Uno... Tu facciare ring con loro! Cosa ho scoperto? No, 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 no! Come gioci? No, 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 no! Ah! Ah! Stai ad avere un dietto! Ah! no ma io sto aspettando l'amunizione no comunque è stato benissimo no aspettate è stato troppo bello quando è caduto il joystick che è attivato la super si è ribellato io li credito ho scoperto una presa bellissima non c'è stato sparato sto male ma la mia preziona al massimo ma la mia preziona al massimo non c'è stato benissimo ragazzi ho seguito le pesanti eh abbiamo trovato il moto perfetto sto morendo sto morendo grazie a tutti